E ora ci occupiamo di enologia, in particolare della fresa di chieri della cantina Balbiano di Andezeno che è vendemmiata nella vigna della regina proprio sulla collina torinese. Il 2020 porta alla vigna della regina, vigneto urbano torinese, una serie di riconoscimenti frutto di un percorso di crescita costante e di un lavoro serio e rigoroso, cominciato dall'azienda Vitivinicola Balbiano nel 2005 con il recupero e il rimpianto del vigneto reale torinese tra le principali vigne urbane d'Europa. Nei giorni scorsi la guida Vini d'Italia a Gambero Rosso per la prima volta nella storia ha segnalato al suo interno un fresa di chieri. Il fresa di chieri doc superiore, vigna della regina 2016, ha ricevuto poi l'oro del premio WOW di Civiltà del Bere. L'annata 2016 del vigna della regina ha poi ricevuto 96 centesimi su Dr. Wine ed è stata menzionata nella guida Slow Wine di Slow Food in attesa di possibili nuovi riconoscimenti. Ecco la nostra intervista a Luca Balbiano dell'omonima azienda Vitivinicola di Andezeno. Nella prima parte il gestore del vigneto urbano torinese, vigna della regina, presenta un bilancio dell'annata produttiva per il fresa. Seguono poi alcune riflessioni sulla nuova fase di lowdown, arrivata proprio in quello che normalmente è il periodo di miglior vendita del vino, ovvero fine anno. In chiusura Luca Balbiano ricorda come il Covid-19 abbia cambiato le modalità di commercializzazione del vino. Oggi le vendite si reggono su due canali, la grande distribuzione organizzata e l'online. Quest'anno celebriamo una grande annata, è stata una grande annata dal punto di vista agricolo, ma lo è stato anche per fortuna grazie a alcuni riconoscimenti che sono arrivati dalle ultime pubblicazioni, dalla pubblicazione delle ultime guide. Noi che produciamo fresa da 80 anni ne siamo particolarmente orgogliosi, perché quest'anno sono arrivati davvero una serie di riconoscimenti molto importanti. Alcuni storici, per esempio la prima menzione sulla guida ai vini d'Italia del Gambero Rosso, la prima fresa di Chieri che compare sulla guida del Gambero Rosso nella storia, e poi una serie di valutazioni molto importanti su alcuni dei nostri vini, soprattutto sul progetto che noi amiamo sopra ogni altro, che è quello della vigna della Regina. Un progetto che ci sta dando grande soddisfazione, per fortuna anche dal punto di vista qualitativo, quindi del prodotto, perché il progetto è molto bello, è molto importante dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, oltre che agricolo, ma poi se arriva qualche riconoscimento, qualche pacca sulla spalla, anche sulla qualità di ciò che mettiamo in quella bottiglia, per noi produttori è sempre una grande soddisfazione. Lo facciamo in un periodo particolarmente complesso, perciò in questi momenti, quando tutte le difficoltà si concentrano, avere qualche spinta, mette un po' di benzina nel motore per poter continuare a salire, nel lento ma costante processo di miglioramento dei nostri prodotti. Per noi produttori questa seconda ondata significa un secondo momento in questo anno solare particolarmente complicato, perché chiaramente facciamo fronte alla mancanza di una fetta importantissima della nostra clientela, che è la clientela della ristorazione. Chiaramente tocca affrontarla in un modo leggermente diverso rispetto a marzo, aprile, maggio, perché chiaramente questo è il momento in cui produttori come noi, che soprattutto hanno una vocazione legata ai vini rossi, vedono questa seconda ondata nell'epicentro del momento migliore di vendita di questi vini. Ottobre, novembre, dicembre sono storicamente e statisticamente i mesi in cui si consumano più vini rossi. Noi facciamo fresa e quindi principalmente un vino che ha bacca rossa, che dà origine a vini sia giovani che superiori e che particolarmente ben si accostano alle pietanze che si servono nei ristoranti in questi momenti. Certamente da un lato siamo più preparati, perché sapevamo cosa aspettarci, dall'altro lato questa è una seconda ricaduta in un anno già particolarmente difficile che mette in condizioni molto complesse sia noi che produciamo, ma tutto poi l'indotto della ristorazione, che non vuol dire solamente avere ristoranti chiusi, ma vuol dire avere tutti coloro che forniscono la ristorazione e tutti coloro che ruotano intorno alla ristorazione, che si trovano in grandissima difficoltà. La multicanalità del vino in questo momento inizia a essere qualcosa di fondamentale e non solamente più facoltativo. Produttori piccoli, medi e grandi si stanno cercando di ingegnare per poter spostare le loro vendite sugli unici canali possibili in questo momento, che sono chiaramente quelli della grande distribuzione organizzata e della vendita online. Quindi l'e-commerce del vino sta tornando a crescere e una seconda conferma del fatto che probabilmente questo canale sarà un canale non solo del presente, ma sarà anche un canale del futuro del vino, porta con sé alcune difficoltà non banali legate al fatto che il racconto del vino è un aspetto essenziale per poterlo vendere nella maniera corretta, per poterlo divulgare nella maniera corretta. Farlo online non è semplice perché si pensa che essere online sia sufficiente avere un sito ben fatto o magari un qualche canale di vendita messo di un po' alla buona. In realtà è un lavoro molto complesso, molto duro, molto difficile, a cui forse eravamo meno abituati. Dovremmo farci i conti sempre più spesso, però devo dire che chi è riuscito a segmentare la propria clientela in una maniera abbastanza trasversale negli anni passati, in questo momento ne sta un pochino traendo i frutti e sta cercando attraverso questa struttura di reggere l'onda d'urto di questa seconda ondata. Per quanto concerne i mesi che ci aspettano, chi lo sa, certamente sarà un Natale diverso dal solito. Mi auguro fortemente che questa curva vada piegandosi verso il basso e la situazione ritorni ad avere una parvenza di normalità, ma sicuramente noi dal lato produttivo ci aspettiamo un Natale un pochino diverso e speriamo di riuscire a trovare le soluzioni per poter venire incontro a tutti coloro che seppur in casa e magari nel loro stretto nucleo familiare vorranno comunque festeggiare con una buona bottiglia di vino.